Bentornati su The Art of Playing, nell'ultima live che faremo qui su Twitch, dopodiché ci spostiamo su YouTube. Ciao a tutti quelli che sono online, oggi voglio parlarvi di uno degli argomenti più importanti e più richiesti dai miei allievi, ossia come interpretare le alterazioni che non sono scritte qui all'inizio dello spartito, ma dopo, che sembrano portarci su strade che, boh, per esempio qua mi bequadro, ma che cavolo c'entra con la tonalità di si bemolle o sol minore in cui eravamo? Ancora non sappiamo in che tonalità siamo, ma lo vedremo tra pochissimo. Guardo soltanto se ci siete tutti e se funziona tutto, sì, mi sembro proprio di sì. Ciao Laura, ciao Antonio, ciao a tutti quelli che ci stanno guardando, vi ringrazio di essere qui. Come sempre, giù c'è la sezione dei commenti, soprattutto per chi guarda da YouTube, per chi guarderà dopo da YouTube? Lasciate il vostro commento qua sotto, fate capire a YouTube che questo canale vi è utile, veramente, per favore, fatelo, fatelo ora, non vi costa nulla, perlomeno questo canale cresce. Se davvero queste cose sono utili, io posso continuare a portarvele. Allora, la prima cosa che dobbiamo dire, e ve l'ho scritta qua sotto, è che noi abbiamo un fenomeno molto ricorrente all'interno dei pezzi, che è quello della funzione armonica secondaria, un termine quasi medico per dire una cosa molto semplice. Se ci troviamo in Do maggiore e suoniamo Do, Sol, Do, noi possiamo, per esempio, anteporre al Sol la sua dominante. Ampliamo la tonalità in questo modo, cioè non usiamo la dominante di Do, che sarebbe Sol, Sol è il quinto grado di Do, ma usiamo la dominante di Sol, quindi la dominante del quinto, il quinto del quinto, come ho scritto qui. Il quinto del quinto sarebbe un Re maggiore, ed è questo che ho scritto tra parentesi. Quindi prima del Sol ci mettiamo la sua dominante, Do, Re maggiore, che è la dominante di Sol maggiore, che è la dominante di Do maggiore. In questo modo noi abbiamo ampliato la tonalità. Che cosa vuol dire che l'abbiamo ampliata? Beh, vuol dire che abbiamo introdotto una nota che non c'entrava niente con la tonalità in cui eravamo, perché il Re maggiore ha il Fa diesis. Re maggiore fatto da Re, Fa diesis l'ha. Se hai seguito il corso di armonia finora, che ormai dura da due o tre anni, trovi tutta la playlist completa sul canale, completamente gratuita, sai che l'accordo di Re maggiore è fatto da Re, Fa diesis l'ha. Ma questo Fa diesis non c'entra niente con la tonalità di Do maggiore. E quindi tu, mentre stai suonando tranquillamente la tua composizione, a un certo punto trovi una cosa del genere. Trovi il Fa diesis in Do maggiore. E se tu il Fa diesis... eccolo qua, te l'ho scritto qua. È un po' lento a scrivere oggi, forse perché siamo in live. Se tu il Fa diesis non sai da dove arriva, perché non sai che c'è il concetto di funzione secondaria, beh, probabilmente sei abbastanza depistato, non so se sia un termine consono, da questo diesis. Perché dici, ma scusa, ma non eravamo in Do maggiore, ma che cosa c'entra Fa diesis? Bene. Quindi, per risolvere questo problema, la prima cosa su cui devi fare pratica sono le dominanti secondarie. Abbiamo già fatto un video su questo. Il video scorso sui giri armonici comprendeva un esercizio, verso la fine del video, ma comunque ci sono i timestamps, quindi lo puoi trovare subito, dove includevamo nel giro armonico, con gli accordi della tonalità in cui eravamo, le funzioni secondarie, le dominanti secondarie dei vari accordi che componevano il giro armonico, in modo che tu avessi un'idea generale di quali accordi facevano parte di quella tonalità e di quali invece tu potevi e puoi aggiungere alla tonalità senza andare fuori strada. Per esempio, se siamo in Si bemolle maggiore, beh, l'accordo di Si bemolle sì, certo, lo possiamo utilizzare, ma agli accordi che fanno parte della tonalità di Si bemolle, ne possiamo aggiungere altri. Per esempio, il Re maggiore c'entra in Si bemolle. Hai voglia se c'entra, perché è la dominante secondaria del Sol minore, che è il sesto grado di Si bemolle maggiore. E quindi l'accordo di Re maggiore nella tonalità di Si bemolle maggiore ti può capitare. Quindi il Fa diesis non ti deve portare chissà dove nella maggior parte dei casi. Nella maggior parte dei casi si tratta semplicemente di una dominante secondaria, quindi di una cosiddetta tonicizzazione. Chiaramente non è sempre così. Non è sempre così, altrimenti tutti saprebbero fare l'analisi armonica. Ma ti assicuro che nella maggior parte dei casi è così. Quindi la prima cosa a cui devi pensare quando incontri tutte queste alterazioni, questi bemolli dentro a un pezzo, è che quelle alterazioni ti stiano portando verso una funzione secondaria. Non necessariamente il quinto del quinto, perché funzione secondaria può essere anche, che ne so, il settimo del quinto. Vale a dire che noi prendiamo un accordo, mettiamo caso che sia Fa maggiore, e prima del Fa maggiore ci mettiamo il mi diminuito triade. Ed è quello che succede, tra l'altro, qui in Bohemian Rhapsody. Questo accordo è un mi diminuito, perché è fatto dalle note di mi sol si bemolle. Ricordati che mi maggiore sarebbe mi sol diesis si, mi minore sarebbe mi sol si, mi diminuito mi sol si bemolle. Questo accordo va a parare su una Fa settima di dominante, perché abbiamo Fa, La, Do, Mi bemolle. Fa settima di dominante ha come settimo grado, se noi prendiamo la tonalità di Fa, il suo settimo grado è proprio il Mi. Quindi qui dobbiamo pensare che il Fa maggiore è preceduto da una settima del quinto. Da un settimo grado, scusatemi, volevo dire, da un settimo, non da una settima, da un settimo del quinto. Settimo del quinto, ovviamente è diminuito, non l'ho scritto barrato, ma comunque è diminuito. Settimo del quinto che poi va a parare sul Fa maggiore, che è appunto il quinto. Questo cosa significa che, come vedete, il Mi b quadro non era da interpretare alla luce di una nota estranea all'armonia, una nota che non c'entra niente con la tonalità, eccetera, eccetera, ma alla luce di schemi ben precisi di accordi, che sono quelli delle dominanti secondarie, in questo caso. Quindi rifacciamoci un attimo lo schema delle funzioni armoniche che appartenevano al Si bemolle maggiore. Il Si bemolle è il primo, poi abbiamo Re maggiore, che abbiamo detto essere il quinto del sesto grado, e poi c'è Sol minore, che è palesemente il sesto grado. Ora, se noi volessimo fare la dominante del secondo grado, avremmo un quinto del secondo, che è un Sol maggiore. Dopodiché avremmo il secondo grado, che è ovviamente un Do minore. Dopodiché avremmo il quinto del quinto grado, che è il Do maggiore. Dopodiché il quinto grado fa maggiore. Tutto questo lo capisci molto meglio se hai già fatto questo esercizio. Ricordati che nel video precedente c'è l'esercizio pratico su questa cosa. Fallo, fallo in Si bemolle maggiore. Ti ho spiegato tutto veramente in quel video. Quindi fallo perché memorizzi quali accordi strani, tra virgolette, possono fare parte di una tonalità. Ma tu te lo saresti aspettato che in Si bemolle maggiore ci fosse un Sol maggiore, o che ci fosse un Do maggiore, o che ci fosse un Re maggiore, che tu potessi mettere un'alterazione, un Bequadro, un Diesis, un Bemolle, su quella nota. Per esempio, Sol maggiore ha il Si bequadro. Te lo saresti aspettato un Si bequadro nella tonalità di Si bemolle maggiore? No. Ed è quello che moltissimi non si aspettano ed è uno dei motivi, una delle ragioni per cui poi effettivamente in fase di analisi noi ci andiamo a bloccare. Perché appena vediamo le alterazioni interne alla partitura andiamo a pensare chissà che cavolo sarà questa alterazione. E invece no. La prima cosa a cui devi andare a pensare sono le funzioni secondarie. Non è ovviamente l'unica cosa che devi andare a pensare. Ci sono, per esempio, ecco, lo sta dicendo anche Laura in chat, cioè ci chiede giustamente la differenza tra nota estranea all'armonia, nota estranea alla tonalità. Ecco, nota estranea alla tonalità vuol dire questo, vuol dire una nota che non c'è nella tonalità in cui stai suonando ma ce la metti perché ha una sua logica intervallare, logica funzionale potremmo dire. Quindi dominante della dominante, settimo del quinto e così via e così via e così via. Nota estranea all'armonia, invece, vuol dire una nota che non fa parte dell'accordo che tu stai suonando. Per esempio, se io sopra a un Sol maggiore ci piazzo un La, quella nota è una nota estranea all'armonia perché non mi dà luogo a un accordo, come dire, che determina una funzione secondaria. Sol, La, Si, Re. Non è assolutamente un accordo che determina una funzione secondaria, ma è da interpretare come un Sol maggiore con un La, nota estranea all'armonia, che poi a seconda del contesto è da capire cosa sia. Quello che consiglio sempre per capire le note estranea all'armonia, prima di tutto, è quello di capire molto bene l'appoggiatura, perché l'appoggiatura è l'unica nota estranea all'armonia che si può trovare sul battere. Tutte le altre note estranea all'armonia non si trovano sul battere, quindi se tu sai riconoscere molto bene l'appoggiatura, sai riconoscere automaticamente, per differenza, tutte le altre note estranea all'armonia. Ma non sono queste l'argomento di questo video. L'argomento di questo video sono le note estranea alla tonalità in cui ti trovi, quindi che determini una tonicizzazione, che è questo processo tale per cui usiamo la dominante di un accordo interno alla tonalità, e quindi lo tonicizziamo, vale a dire lo trasformiamo temporaneamente in una tonica, o lo facciamo percepire come una tonica, perché facciamo seguire il quinto grado a quell'accordo e quindi sembra un primo. Ma non basta sapere tutto questo in linea teorica, andiamo a fare un'analisi molto velocemente. Volevo farla venire di venti minuti questa live, ma credo che siamo già oltre. No, non siamo oltre, siamo a dodici. Benissimo. Allora, l'analisi la facciamo molto velocemente. Questo pezzo parte con Re, Fa, Sol, Si bemolle. Noi leggiamo le note dal basso verso l'alto inizialmente. Quello che consiglio sempre è di siglare le note, scegliere la diteggiatura, praticarle a gruppi di tre, quindi pratica poi gli accordi a gruppi di tre, per esempio questo è il primo accordo, questo è il secondo accordo nuovo, questo è il terzo accordo nuovo, inizia con questi tre, li pratichi. Dopo che hai scelto le diteggiatura e li hai siglati, li pratichi meccanicamente, li fa entrare nelle dita. Fase due, di l'accordo e poi lo suoni. Quindi per esempio, io parto, questo è un Sol minore, quindi dirò Sol minore e poi lo suono. Questo è un Do maggiore settima, Do maggiore settima e lo suono. Mi diminuito e lo suono. Questo è un modo di entrare nel discorso della memoria cognitiva, che è la seconda fase di studio. Memoria muscolare è la prima, memoria cognitiva è la seconda. Noi le distinguiamo molto bene a lezione. Purtroppo in un live non posso farvi tutto il discorso che faccio a lezione qui in presenza a Vercelli. Ma se volete entrare nella nostra cerchia di allievi, potete guardare nella descrizione di questo video. C'è sicuramente una mail, un recapito a cui mandare una richiesta. Al momento non c'è posto, ma sicuramente un posto si libererà e in quel caso se hai mandato la mail, sicuramente ne terrò conto. Questo è un accordo di Sol minore. L'accordo di Sol minore è un sesto grado nella tonalità di Si bemolle maggiore. Questo accordo va a tendere al Do settima. Quello che ci deve interessare qui è che si tratta di un Do maggiore, quindi quale funzione secondaria rivestiva? Vedete, Do maggiore è un quinto del quinto. Quindi Do maggiore settima, non ce ne frega niente che abbia aggiunto la settima. L'importante è che la funzione definita dalla triade sia quella di dominante. Quindi qui abbiamo una dominante secondaria, la settima di dominante del Fa maggiore, che arriverà dopo, perché in mezzo c'è anche un settimo di quel quinto. Quindi lui sta facendo una piccola parentesi armonica dove c'è un quinto settimo che rientra comunque nell'area della dominante. Il settimo è comunque una dominante, dal punto di vista funzionale, per scaricare poi la tensione su Do, Mi, Fa, La, il Mi ovviamente è bemolle, quindi abbiamo Fa, La, Do, Mi, bemolle, una settima di dominante, quinto settima scritta in rivolto, quindi abbiamo un secondo rivolto, quindi 4-3, che va poi a scaricare la sua tensione. Anche qui ovviamente non siamo in stato fondamentale, però adesso non sono stato a scrivere tutto, questo è palesemente un 4-6, su un Si bemolle, quindi su un primo maggiore ovviamente. Questo è stato fondamentale, è scritto proprio dritto con il raddoppio all'ottava del Si bemolle. Anche questi sono accordi scritti in modo abbastanza dritto, tranne il sesto grado, cioè il Sol, che è anche questo stranamente in rivolto. Quindi stranamente in rivolto dico perché parte praticamente col secondo rivolto. Quindi abbiamo un 4-3. Questa è l'analisi che farei, molto estemporanea, nel senso che l'ho aperto ora questo pezzo, quindi si potrebbe sicuramente aggiungere dei dettagli, dire cose in più. Sinceramente però, per esempio, non so, questo accordo che ritorna prima, si tratta comunque di un accordo di passaggio, non è un accordo che determina uno spostamento tonale, funzionale, scusate, mi volevo dire, dal mio punto di vista, perché riappoggia semplicemente sull'accordo che era stato indicato prima. Quindi non c'è niente di strano. La cosa interessante è che appunto il pezzo era iniziato con questo accordo, quindi c'è un richiamo di quello che stava succedendo prima per un momento, ma è su un levare, quindi si tratta di qualcosa di poco conto dal punto di vista funzionale. Ma detti questi dettagli, che come vedete sono abbastanza superflui, sono più filosofeggiare che altro, l'analisi è di questo tipo. Abbiamo un Sol minore, che abbiamo visto già essere presente nella nostra tonalità, eccolo qua, Sol minore, un sesto grado. Un quinto del quinto, quindi Do maggiore, ci ha messo la settima, va bene, però la funzione è sempre quella. Un Mi diminuito, che è il settimo del quinto, qui noi abbiamo usato solo le dominanti secondarie, si potrebbe fare lo stesso esercizio con i settimi gradi secondari, che sono pur sempre funzioni di dominante secondaria, ma scritta in modo diverso perché si usa il settimo grado. Per poi andare sul quinto in secondo rivolto, settima, quindi Fa, La, Do, Mi bemolle, e l'avevamo trovato qua, il quinto è un Fa maggiore, qui c'è aggiunto la settima, che scarica la tensione sul primo. Se hai fatto l'esercizio presente nello scorso video, queste alterazioni che hai trovato in mezzo alla partitura non devono averti spaventato, non dovrebbero averti spaventato, perché sai perfettamente, come vedi dallo schema qui sotto, farle risalire a una grammatica estremamente chiara. Quindi, se questa live ti è stata utile, spippoletta, metti mi piace, metti l'iscrizione, il commento, fai tutto quello che puoi fare per far capire a YouTube che questo canale ti interessa, in modo che io possa anche continuare a fare questi video e tu possa continuare a beneficiarne. Non ti costa davvero nulla? Fallo in questo momento, basta che scrivi bellissimo video, ottimo video, mi è stato utile. Anche solo due parole sono sufficienti per far capire all'algoritmo che ti piace e ti interessa questo canale. Bene, se non ci sono altre domande, noi ci vediamo come sempre nel prossimo video del martedì. Vi ricordo che adesso le live su questa piattaforma, che forse non posso neanche nominare qua su YouTube, terminano, quindi verrà caricata questa live su YouTube, ma dopodiché chiudiamo i battenti e le live saranno sul canale principale quando le farò, poi usciranno comunque sicuramente le date sul canale di YouTube, appunto. Quindi le vedrete scritte in un post oppure nella copertina proprio del canale come scritto adesso. Quindi ci vediamo nel video del prossimo martedì. Ciao, a prestissimo!